Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul mio canale, un nuovo video sui migliori giovani talenti da acquistare nelle carriere su FIFA 23. Vi ho già portato altri video, altri episodi di questa chiamiamola ormai serie, vi ho portato il solito quello sui migliori talenti in assoluto, sui migliori talenti economici e verso febbraio vi ho portato anche quello sui migliori talenti aggiunti, nuovi talenti e questa volta siamo con la parte 2 visto che negli ultimi 3 mesi, 3 mesi e mezzo sono stati aggiunti nuovi giocatori e quindi ho deciso un po' di aggiornarvi la lista con dei nuovi talenti. Infatti come potete notare sono stati aggiunti diversi talenti appunto tra metà febbraio e adesso che sto registrando il 19 maggio sicuramente saranno aggiunti anche altri talenti durante l'estate perciò se volete un altro episodio magari un po' più là verso luglio, fine luglio inizio agosto con i talenti aggiunti durante appunto il mercato estivo, ditemelo qua sotto nei commenti ma soprattutto lasciate un mele mi piace, arriviamo a mille mi piace per un altro episodio. Direi di partire subito dai portieri come al solito andremo ovviamente in ordine, vi dico già che la maggior parte dei talenti che vedrete sono senza la faccina tantissimi sudamericani visto che appunto con l'inizio della stagione sudamericana un paio di mesi fa sono stati aggiunti tanti giocatori anche dall'MLS c'è qualche italiano comunque qualche giocatore dei campionati italiani perciò partiamo dai portieri con Andre Gomez che è subito uno dei migliori talenti di questo video ha un potenziale superiore all'85 diventa uno dei migliori portieri per il momento non la faccina ma mi aspetto che verrà giunta prossimamente 17enne sicuramente il miglior portiere di questa lista insieme anche a Gabriel Slonina che era presente in inizio FIFA poi per un paio di mesi è sparito ora è ritornato gioca nel Chelsea molto facile da prendersi a titolo definitivo che soprattutto in prestito quindi ve lo consiglio tanto anche per carriere in MLS sempre in Inghilterra abbiamo anche Boyce Clark di portiere molto interessante soprattutto per il fatto che abbia queste trecine lunghe secondo me lo rende molto figo questi dread c'è poi anche Ryan Falciu per carriere un po' più diciamo da partire dal basso quindi più Road to Glory insieme anche a Masifuense se volete fare una carriera in Sud America passiamo subito ai terzini partendo sempre dall'Inghilterra con Reuel Walters un terzino destro dell'Arsenal anche lui da prendere per carriere Road to Glory la maggior parte dei giocatori che vedrete saranno di questa tipologia quindi giocatori molto economici molto giovani da prendere subito per insomma farli crescere far superare anche magari quello che è il loro potenziale abbiamo poi Lucas Calegari probabilmente uno dei migliori terzini destri aggiunti anche lui ve lo consiglio veramente tanto in qualsiasi tipo di carriera abbiamo poi Kevin Alvarez che appena inizierete le carriere la prima stagione sarà svincolato quindi ve lo consiglio per quello 23enne ovviamente da prendere a parametro zero altrimenti come vedete il suo prezzo è già abbastanza alto ha 23 anni quindi un po' più in là rispetto di età e rispetto agli altri però è un giocatore già un po' più pronto anche per squadre di media alta classifica abbiamo poi un altro sudamericano che è Andres Alfonso del Medellino un giocatore molto giovane ma sicuramente uno dei migliori abbiamo anche Eber Moreno un altro sudamericano abbiamo poi Mark Jurado che può giocare anche come esterno e anche come centrocampista ha già dei trait importanti come Carisma che lo sono anticipati passaggi lunghi e tiro d'esterno per un giro ci ottenne tanta roba abbiamo poi anche un italiano che è Tommaso Barbieri quindi ve lo consiglio se volete un terzino italiano da usare magari in serie B lui può essere un'ottima idea e poi chiudiamo con probabilmente quello che è il miglior talento a livello di potenziale di questa lista per il terzino destro che è Chiriani sub del Club Brugge Club Brugge che è piena zeppa di talenti dateci un'occhiata ma lui ve lo consiglio tanto passiamo adesso ai difensori centrali partendo da Kevin Mantiglia dell'indipendiente quindi continuiamo con tanti talenti sudamericani che magari negli altri video abbiamo visto un pochettino meno ma recuperiamo appunto con questo abbiamo poi subito Maddy Mona Mai uno dei migliori talenti non solo della Bundesliga ma anche del calcio belga gran gran bel difensore può giocare anche come CDC abbiamo poi Marvel fa troppo ridere il fatto che si chiami Marvel ed è un DC come DC insomma chi è un po' fan dei fumetti o comunque dei supereroi avrà capito lui ve lo consiglio davvero tanto in carriera in Spagna visto che c'è anche la serie B lì potete prenderlo e farlo crescere tanto abbiamo poi un altro difensore croato dalla Dinamo Zagabria Dinamo Zagabria che sta producendo tantissimi talenti nel ruolo di difensore centrale soprattutto lui è un altro che esce da questa grande grande insomma squadra di produttrice di talenti abbiamo poi Ilias Kostis che anche lui è uno svincolato quindi ve lo consiglio se volete un bel talento svincolato può giocare anche come terzino ottimo ottimo giocatore un metro 92 quindi un gran bel difensore per squadre non fortissime abbiamo poi Mark Mampassi che gioca in Turchia russo difensore anche lui niente male 19 anni 66 di overall da tenere in considerazione abbiamo poi un altro talento in Italia Uruguagio si tratta di Alan Matturro un gran gran bel difensore piede mancino alto 1,89 consigliatissimo e poi passiamo e chiudiamo la difesa con i terzini sinistri partendo da David Erod che la prima stagione non potrete prenderlo perché è in prestito una squadra del campionato tedesco penso della tritte liga abbiamo poi anche Amrawi un gran gran bel terzino anche con il codino quindi insomma divertente anche da vederlo un po' su FIFA abbiamo poi anche Julio Cesar Soler un gran gran bel talento dell'Argentina dal Lanus un giocatore che può giocare anche come difensore centrale ma sinceramente visto il metro e 70 ve lo consiglio come terzino abbiamo un altro che può fare il doppio ruolo Yorrel Ato uno dei migliori talenti sicuramente di questa lista penso il miglior terzino sinistro di questa lista consigliatissimo abbiamo poi anche Jimmer Fori uno dei pochi sudamericani che ha il gameface che ha il gameface nel senso della faccina il gameface purtroppo no però un giocatore che vi consiglio tanto un altro terzino sinistro colombiano terzini colombiani sono sempre una garanzia lui consigliatissimo non è ancora velocissimo ma ancora solo 20 anni può giocare anche come esterno abbiamo poi anche Valentin Barco un altro gran gran bel talento sudamericano Argentino del Boca chiudiamo poi con Serif Naga altro talento dal Paris Saint Germain anche lì pieni zeppi di talenti facilissimo da prendere visto che al Paris non trova spazio ora passiamo al centrocampo dove c'è la ciccia vera dove si comincia anche a vedere dei potenziali un po' più alti partiamo da El Ghera un gran gran bel cdc del National consigliatissimo Uruguagio anche un paio di trait interessanti tiro d'esterno di blatore tecnico sempre da sudamerica Equadorien abbiamo anche Oscar Zambrano anche lui consigliatissimo ha dei bei trait soprattutto fisici passando in Francia invece abbiamo Valentina Tangana e Doha sedicenne ragazzi sedicenne veramente tanta tanta roba c'è anche Johan Torres un bel bel cdc anche lui colombiano veramente sono contento di vedere tutti questi sudamericani spero che il campionato brasiliano ci sia magari su EA Sports FC abbiamo poi il primo esterno che è Shemsdine Talbi un giocatore che credo sia di origini arabe probabilmente marocchino un buon esterno ovviamente quando hanno overall così bassi sono difficili da giudicare ma ovviamente facendoli crescere allenandoli bene possono entrare giocatori importanti uno dei giocatori più bassi di overall di questa lista è Emre Gokai un altro talento turco ne stanno uscendo tanti ultimamente passando al centro campo un altro giocatore dall'Italia è Ginetis che lui credo abbia già giocato in Serie A perché mi pare di averlo già visto qualche volta Lituano giocatore abbastanza equilibrato è alto anche 1,87m quindi può essere un buon giocatore in mezzo al campo nelle basse categorie Davide Pievre ilunga anche lui bassissimo di overall però 16enne tra l'altro bellissima questa maglia cioè bellissima per il McDonald's non avevo mai visto una maglia col McDonald's ultimamente c'erano più nel passato però è un cartellone pubblicitario questa maglia veramente imbarazzante però figo quel McDonald's messo lì giallo sul rosso in Real Madrid abbiamo Mario Marti anche lui un buon giocatore niente di eccezionale ma comunque in Spagna può far comodo uno dei migliori sicuramente è Warren Zaire Emiri che sta già giocando da tanto tempo al Paris Saint Germain sicuramente un talento generazionale un giocatore incredibile già con delle statistiche veramente pazzesche per avere solo 16 anni ovviamente non ve lo sto dire consigliatissimo abbiamo poi Archie Gray per carriere magari dall'Inghilterra insieme anche a Lewis e Miley e poi in Italia possiamo chiudere con i centrocampisti centrali con Niccolò Pisilli la Roma sempre grande produttrice di talenti italiani anche lui non è da meno passando agli esterni sulla sinistra abbiamo Julian Durandville uno dei migliori talenti sicuramente di questa lista uno con il potenziale veramente altissimo dovrebbe essere anche lui 86, 87, 88 insomma potenziale altissimo ovviamente potete farlo diventare un fenomeno gioca al Borussia Dortmund quindi insomma anche lì vuol dire che è veramente un talento nel Borussia Dortmund 2 ce n'è un altro Samuel Bamba forse un pochettino più scarso però anche più economico sicuramente al Shakhtar Donetsk dopo aver venduto insomma Mr. 100 milioni Mudrik ce n'è un altro esterno dal Tajikistan tra l'altro non mi sembra mai di aver visto un giocatore dal Tajikistan passiamo in Portogallo ecco pochi giocatori portoghesi in questo video solitamente ce ne sono di più Vasco Sousa gran gran bel trequartista già anche lui con regista può giocare anche come mezzala e poi abbiamo Simone Paffundi che tutti quanti insomma lo conoscerete già ha giocato in nazionale cioè è stato convocato in nazionale un giocatore che su FIFA dà un paio di mesetti ma negli altri video non l'avevo messo quindi dovevo metterlo per forza sicuramente un gran gran bel talento sono molto curioso di vederlo nella realtà magari la prossima stagione giocare un pochettino di più Roma in S sempre solito talento inglese in Francia invece c'è un altro gran bel talento che è Dan Diop che è il fratello di Sofian Diop che anche lui gioca in Francia chiudiamo con i trequartisti con Lamine Camara senegalese giocatore anche lui veramente molto forte c'ha anche classe mi piace molto vedere tutti questi giovani che hanno questi trait chiudiamo adesso con gli attaccanti partiamo dalle ali con Rocco Vata questo nome Rocco insomma interessante per un irlandese chissà che non abbia qualche insomma o origine italiana oppure i genitori soprattutto credo il padre magari conosce il buon Rocco nazionale abbiamo poi Luciano Rodriguez Uruguagio può giocare in tutti i ruoli dell'attacco lui sicuramente uno dei più interessanti potrebbe anche fare la seconda punta c'ha dei bei trait insomma è anche abbastanza costosetto per l'overall però insomma consigliato Jeppe Kier giocatore ex Ajax Westano è passato al Bodo Glimt il Bodo Glimt è una squadra che riesce sempre a far crescere bene i talenti quindi insomma anche lui da consigliare danese sempre dal nord Europa tra virgolette in Belgio torniamo al club Brugge con Romeo Vermant anche lui un attaccante belga da tenere in considerazione 65 di finalizzazione con l'overall che ha non è per niente male Ilyes Usni un altro talento del Paris Saint Germain lui veramente figo perché c'ha 17 anni ma c'ha già sta barba c'ha il codino un po' la PNL ed è un giocatore che anche lui vi consiglia è proprio una prima punta pura al Salisburgo un altro attaccante Karim Konaté giocatore ragazzi che non posso non consigliarvi veloce tecnico quelli che su FIFA insomma vanno sempre bene poi abbiamo Damion Donz giocatore statunitense 18enne del Colonia sicuramente lui per carriere o magari negli Stati Uniti oppure più ve lo consiglio magari per carriere in tritte liga poi abbiamo Jordan Maichwrak Maichwrak Madonna non so leggere ragazzi insomma leggetelo voi è alla Roma credo in prestito da Legia Varsavia quindi la prima stagione non potete utilizzarlo però insomma non potevo non consigliavo anche lui nuova giunta così come invece Jorgos Kuzias che è appena passato al Chicago Fire era presente su FIFA l'anno scorso ma è ritornato giocava al Pauk che non è su FIFA e lui non posso non consigliarvelo gran gran bel talento per i Chicago Fire poi stiamo per chiudere con l'ultimo attaccante di questa lista nuova giunta fresca fresca Alberto Basso Ricci nome veramente strano esordito in Serie A quindi è stato giunto su FIFA 18enne giocatore che non sa né di carne né di pesce molto giovane molto basso di overall non so neanche se riuscirebbe a trovare spazio in Serie B se ci fosse la Serie C su FIFA con le mozzi può utilizzare ecco può essere un nome sicuramente da tenere in consigliazione stiamo per chiudere con le ali con Jeff Figno gran gran bel talento brasiliano sembra un po' un TT 2.0 dell'anno scorso giocatore brasiliano di quelli veramente veramente forti come esterno ovviamente ve lo consiglio abbiamo poi anche l'Aralcon del Barcellona talento del Barça ce ne sono anche lì veramente veramente tanti però lui insomma ve lo consiglio un 73 di finalizzazione alto un metro e 75 potreste anche considerare di farlo giocare come punta potrebbe essere interessante abbiamo poi Enes Sali 16enne e 60 di overall del campionato rumeno quindi talento rumeno anche lui niente male un metro e 64 quindi un giocatore veramente molto molto basso molto molto fragile potreste anche farlo giocare come trequartista ma in realtà per la velocità che ha giocatelo come esterno e poi chiudiamo con uno dei migliori talenti sempre dall'Ajax ed è Mika Goz giocatore veramente eccezionale belga 17enne 64 di overall con veramente delle gran gran belle stats in inter ragazzi così si chiude questa seconda parte ripeto arriviamo a mille mi piace e vi porto una terza parte ovviamente ditemi se la volete meno ditemi se qualcuno di questi talenti li conoscete se c'è qualche talento che mi sono perso ditelo nei commenti ovviamente per darvi dei consigli qua sotto nei commenti e noi ci vediamo con un prossimo video qui da adesso è tutto buona buona carriera e spero che almeno uno di questi talenti che vi ho consigliato possa esservi utile grazie a tutti